Un'attenta attività di indagine già in corso in maniera autonoma presso il Parlamento. Questa la dichiarazione del presidente della Fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore Dario Vassallo. Un segnale importante che proviene dalle istituzioni, ha detto La nostra è una corsa contro il tempo per evitare i termini di prescrizione dell'inchiesta arrivando ai responsabili di un omicidio ancora irrisolto. Hanno ucciso Angelo, ma le sue idee di legalità e sostenibilità sopravvivono. Si intensifica dunque l'attività di indagine presso le istituzioni sull'omicidio ancora irrisolto di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore. Il prossimo 23 luglio 2021 sarà ad Acciaroli il gruppo di lavoro parlamentare istituito presso la Commissione Antimafia, presieduta dal professor Nicola Morra, un team coordinato dall'onorevole Luca Migliorino per ispezionare tutti gli elementi istruttori utili a non far cadere nel vuoto il fascicolo d'inchiesta, prima che decorrano i termini della prescrizione. Un'attenta attività di indagine già condotta in maniera autonoma dal Parlamento, sottolinea il presidente Dario Vassallo. È una cauta speranza. Occorre fare luce sulla verità e mantenere alta l'attenzione, prima che decadano i termini della prescrizione. È una corsa contro il tempo per Angelo, per il Cilento e per uno Stato di diritto che tuteli la legalità. La venuta da Acciaroli della Commissione Antimafia documenta la forza dello Stato che quando opera al pieno delle sue funzioni, insiste Dario Vassallo, è nel pieno delle sue forze, dimostra che non ce n'è per nessuno e non arretra davanti a niente, perché è fondamentale arrivare alla verità non solo per noi, ma per un paese intero.